È una giornata storica per tutta la comunità di Penne perché ricostruiamo una scuola peraltro storica della città e io sono orgoglioso perché quando si dedicano fondi importanti, noi per l'edilizia scolastica abbiamo investito oltre 10 milioni di euro per la scuola e qualcosa di importante perché investiamo sul futuro. Io sono felice e voglio condividere con tutta la mia maggioranza questo lavoro perché abbiamo messo in sicurezza tutte le scuole di competenza comunale della città e questo rappresenta un punto importante per il cammino della nostra amministrazione comunale. Salvo imprevisti, la scuola sarà pronta per dicembre 2024, gennaio 2025 e quindi per quell'anno scolastico potremo ipotizzare anche il trasferimento. È un impegno, chiaramente un cantiere così importante può avere degli imprevisti ma la data che abbiamo concordato con l'impresa è questa e io sono convinto, vista anche la serietà dell'imprenditore, che riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Questa scuola costerà quasi 5 milioni di euro, una scuola all'avanguardia, antisismica, di ultima generazione, altamente tecnologica, quindi ci sarà davvero un'offerta formativa diversa rispetto al passato.